Ciao a tutti, io sono Samantha e lei è Ambra. È una gattina che ha circa due anni e una miccia che abbiamo salvato dalla strada in quanto non aveva nessuno e sarebbe, avrebbe fatto comunque una brutta fine perché ha anche dei problemi di salute. È arrivata che insomma aveva grossi problemi alimentari, era molto magra, poco conviviale, molto apatica e adesso come ben vedete è in carne, è comunque molto simpatica, è molto gioviale, gioca sempre e per noi è comunque una grandissima compagnia perché porta anche allegria in tutto il comando. È diventata la mascotte del nostro comando, gira per tutto il comando, chiaramente non negli spazi aperti al pubblico, va a disturbare tutti gli uomini e gioca, fa gli agguati e chiaramente Ambra, diversamente dai miei uomini multe non ne fa, però fa parte del nostro diciamo corpo e quindi sarà presto dotata di una pettorina con scritto polizia locale di Rozzano. Siamo felici di averla salvata e invito tutti quanti a fare altrettanto qualora trovasse qualche animale in difficoltà per la strada, dategli una mano come loro darebbero a noi la loro zampa. Ciao da me e da Ambra.